Musica Studiando e analizzando la partitura si possono spiegare tantissimi elementi la struttura dei numeri musicali, la connessione testo-musica così come il perché vengono utilizzate alcune tonalità piuttosto che altre ma in realtà è tutto secondario a ciò che di quest'opera non possiamo spiegare e che è proprio l'elemento che in qualche modo affascina da ormai secoli e che è proprio l'elemento melodico Un compositore può imparare qualsiasi cosa può imparare a sviluppare il materiale musicale può imparare a sviluppare una struttura quello che nessuno potrà mai insegnargli è come scrivere una bella melodia una melodia universale mentre l'arte ha sempre una percezione soggettiva ognuno di noi la percepisce a modo proprio esistono però delle cose che sono oggettive e universali, belle come per esempio le melodie bellugniane quindi la domanda è perché la sonnambola ha ancora questa trattiva la risposta è questa la domanda è quella la domanda è quella la domanda è quella la domanda è quella la domanda è quella